Ciao! Oggi voglio farvi vedere la mia night routine. Appena arrivata a casa, ovviamente tolgo subito il giubbotto, vado in cucina, apro il frigo e decido cosa mangiare per la sera. Apparecchio e sì, il tovagliolo vi raccomando sempre a sinistra e dopo aver finito di mangiare decido cosa guardare la sera. Guardo un po' di televisione, un po' di social network, un po' di Instagram, però poi mi annoio, mi viene sonno e quindi niente, è il momento di andare a cambiarmi. E semplicemente scoccando le dita sono in pigiama e ora vado in bagno. Comincio mettendo una fascetta per tenere indietro i capelli e mi strucco. Il primo prodotto che applico sul viso perfettamente pulito è Advanced Night Repair di Estée Lauder. È il siero numero uno della riparazione notturna. Combatte gli effetti della mancanza di sonno, dall'esposizione blu e dall'inquinamento ambientale. Dopo una settimana si vedono già i primi risultati. Pelle più luminosa, idratata, linee ridotte e pelle più liscia e morbida. Per il contorno occhi uso Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus, Global Anti-Aging, Cell Power e i balmi. Picchettandolo delicatamente su tutto il contorno occhi. Invece per il viso Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus, Global Anti-Aging, Cell Power e Clean. Mettendolo su tutto il viso, sul collo e sul decolletè. E solo nelle profumeriette, fino al 3 marzo, il regalo con l'acquisto di un siero Advanced Night Repair, questa pochette con le taglie di age del mascara, Revitalizing Supreme Plus crema viso, contorno occhi, per completare tutto il trattamento quotidiano. E ora, tutti a nanna. Una cosa che amo fare è quella di spruzzare sul cuscino un profumo di lavanda e rosa, che concilia tantissimo il sonno. Prima di chiudere gli occhietti, spegnere la luce, un giro veloce su Instagram, vi raccomando, seguitemi, e vi auguro una dolcissima notte. Ciao!